Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci alla finale di Amici Speciali. Stas, dopo aver rinunciato alla finale, perde a posto un altro concorrente, che sarebbe Umberto Gadino, al centro del palco riceve un regalo dalla fantastica Maria Di Filippi, una collanina. In un periodo che tutti abbiamo subito e sperato che tutto passi, Maria ricorda Stas che ha fatto una cosa bella, la cosa più bella del mondo, che è un inno alla vita. Maria fa vedere un filmato di un'ecografia dove si vede un battito di un cuoricino, ed ecco l'annuncio in diretta. Insomma, Stas è diventato papà. Credo che si tratti di una bambina, visto il regalo della conduttrice. In un momento così strano la vita mi ha fatto il regalo, e con queste parole che Stas ringrazia Maria. Bene, non ci resta che congratularci con Stas e auguri per la sua piccolina. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!